Dopo un po' di tempo andiamo a parlare di Fed, mercati finanziari, in particolare quello americano, economia americana perché questo mercoledì c'è stato il meeting della Fed, martedì mercoledì c'è stato il meeting della Fed e mercoledì la solita conferenza di Powell. In particolare questo è interessante perché ogni due meeting viene dato il Summary of Economic Projections, il SEP e questo appunto era già stato dato a giugno, era stato saltato nel meeting successivo e oggi abbiamo le nuove proiezioni della Fed, ovvero dei membri della Fed. Dallo scorso meeting la situazione è cambiata in modo abbastanza importante, lo vedremo poi nel SEP in particolare si sono alzate le probabilità di soft landing, infatti l'inflazione è in ribasso e la crescita economica resta abbastanza sostenuta. C'è da dire che comunque nelle ultime settimane l'accordo tra Russia e Arabia Saudita ha portato verso l'alto il prezzo del petrolio e questo è un punto negativo per quanto riguarda l'inflazione e come vedremo questo è poi rispecchiato anche all'interno del SEP. In particolare di questo ho parlato Powell spiegando come il prezzo del petrolio non sia particolarmente importante per la Fed visto che è un componente abbastanza volatile dell'inflazione ma è comunque importante fare delle considerazioni di lungo periodo perché ovvio se il petrolio rimanesse in alto per tantissimo tempo avrebbe degli impatti a livello economico sulle spese e a livello di inflazione anche su altri beni. Comunque partirei con una premessa sul movimento del mercato nel corso degli ultimi mesi lasciate un like per supportare il video o farlo vedere più persone e iniziamo. Le azioni tecnologiche sono quella parte del mercato, quel settore che ha alimentato il rally nel corso del 2023. Queste sono diventate sempre più costose e adesso il mercato ha iniziato in qualche modo a guardare i multipli in una situazione di tassi che sembrano alti per più tempo. Quindi un eventuale repricing di questo settore avrebbe impatti importanti in quanto è comunque il settore principale dell'S&P 500 e in particolare il settore principale del Nasdaq. Il settore tecnologico è uno dei più sensibili ai tassi di interesse e negli ultimi dieci anni questo si è visto con dei grandi risultati spinti da tassi che erano sicuramente a livello assoluto bassi. E questo si è notato anche nel 2022 dove per la prima volta negli ultimi dieci anni, dal 2013 non succedeva, il settore tecnologico ha sottoperformato l'S&P 500 nel suo complesso con un risultato del meno 29%. Nel 2023 è tornato un po' di entusiasmo anche grazie all'intelligenza artificiale e si è tornato in alcuni casi a guardare un pochino meno il Multiplo PI, cosa che si era vista in modo molto più importante nel 2021 e che era quasi scomparsa nel 2022 dove gli utili erano l'unica cosa che contava. Però un'inflazione che sta migliorando, sì, però non è arrivata al target del 2%, con un'economia così forte ritarda i tagli dei tassi di interesse. E quindi gli investitori sono tornati a guardare soprattutto questo settore tecnologico e potrebbe per un certo periodo mettere una pausa a questo rally che abbiamo visto per l'S&P 500 nel corso del 2023. In generale l'S&P 500 ha dei multipli abbastanza importanti in questo momento, soprattutto se confrontati con i rendimenti che abbiamo su altre asset class o anche su altri mercati. Quindi non dobbiamo focalizzarci solo sull'S&P 500, ci sono anche alternative. Dal punto di vista economico c'è stato anche un certo spostamento del focus da solo inflazione ha un focus anche sulla crescita economica. In particolare in una situazione in cui appunto inflazione scende anche leggermente più del previsto, ma crescita economica che è importante. Da un lato i tassi così elevati mettono un pochino a repentaglio questa crescita che stiamo vedendo. Dall'altro la crescita è un pericolo per l'inflazione. Quindi diciamo che c'è questo filo sottile che va monitorato nel corso dei prossimi mesi, che va dai tassi di inflazione ai tassi di interesse imposti dalla Fed per arrivare alla crescita economica, l'andamento del PIL americano. Ma andiamo al punto focale del video, ossia come si è mossa la Fed. Ovviamente come era ampiamente previsto non c'è stato un movimento dei tassi base, però come dicevamo la cosa più importante era vedere le proiezioni. Ricordiamoci che all'interno di questo sommario delle proiezioni ci sono 19 opinioni, ossia ogni membro della Fed dà la sua opinione e tutto questo viene raccolto all'interno di un dot plot e all'interno di una tabella in cui viene mostrato la mediana e in generale la distribuzione di queste opinioni. Noi ci focalizzeremo sulla mediana, ma c'è comunque una disparità di opinioni all'interno del comitato Fed e quindi sicuramente è importante poi andare a valutare, andare a vedere il dot plot e vedere un pochino anche la dispersione di opinioni che ci sono sulle varie proiezioni che vengono fatte all'interno di questo sommario. Allora, prima di tutto per il 2023 viene proiettato un nuovo rialzo dei tassi di interesse e da un punto di vista di interpretazione, anche se le idee non sono comunque concordate, probabilmente è molto meglio una proiezione dove andiamo a parlare di un nuovo rialzo dei tassi di interesse piuttosto che dire non faremo più rialzi e avere la maggioranza all'interno del comitato che dice che non si prevedono dei rialzi e poi dopo tornare indietro e in qualche modo fare questo rialzo. Ne ha parlato in modo anche più importante Powell all'interno della conferenza focalizzandosi sul fatto che quando la Fed inizierà tagliare i tassi sarà perché si ha una certa convinzione che l'inflazione sia tornata a livelli sotto controllo, quindi sotto al target del 2%. Invece le proiezioni per 2024 e 2025 sostengono un po' quest'idea del liar for longer. Infatti rispetto allo scorso giugno abbiamo 50 punti base in più per il 24 e 50 punti base in più per il 25, quindi come vediamo dalla tabella rispettivamente 5.1 e 3.9. Powell si è comunque lasciato scappare il fatto che arriverà anche il tempo per i tagli e poi è una frase molto generica nel senso che potrebbe arrivare nel 2024 come si vede dalle proiezioni ma potrebbe anche essere più avanti, cioè quanto veniva sottolineato più spesso all'interno della conferenza è che la Fed continua a elaborare le informazioni che entrano e prende decisioni, quindi probabilmente le proiezioni che ci saranno fra due meeting saranno diverse da queste. Poi anche se il caro Jerome Powell ci dice che il soft landing non è il base case in qualche modo è facile interpretare in questo modo le proiezioni che vediamo perché comunque da un punto di vista di crescita economica le stime sono viste in rialzo per quest'anno e per il prossimo. Dall'altra parte abbiamo una disoccupazione rivista al ribasso e invece i numeri su inflazione, inflazione core, come dicevamo prima numeri leggermente più elevati per il PCE probabilmente per via appunto della situazione legata al petrolio e numeri leggermente più bassi per il core PCE probabilmente per i risultati buoni che abbiamo avuto nel corso degli ultimi tre mesi. Però ad ogni modo questo può essere visto da un punto di vista positivo ma anche negativo perché come viene spiegato all'interno della conferenza da Powell il PIL è qualcosa che non interessa alla Fed però è da tenere sott'occhio perché appunto se il PIL è troppo, la crescita del PIL è troppo elevata questo può essere visto in qualche modo positivamente in parte anche negativamente soprattutto per quanto riguarda la lettura del PIL che probabilmente la Fed avrebbe voluto vedere leggermente più in basso non decisamente più in basso perché poi dopo gli viene detto in un'altra domanda proprio perché la Fed vuole evitare il soft landing e Powell dice no, noi vogliamo arrivare al soft landing però non è il nostro base case e c'è da stare attenti alla crescita economica perché è una crescita economica troppo elevata poi può alimentare l'inflazione. Dal punto di vista del mercato del lavoro ci sono dei buoni sviluppi con il gap tra domanda e offerta che è andato leggermente a ridursi ma la domanda di lavoratori è ancora superiore rispetto all'offerta. L'idea è che comunque questa cosa possa andare in miglioramento nel corso dei prossimi mesi anche perché c'è sempre da ricordare che c'è un determinato lag tra i movimenti della banca centrale e poi dopo gli effetti sull'economia cioè se oggi la banca centrale alza i tassi di interesse non sappiamo effettivamente quando questo rialzo dei tassi sarà poi dopo visto effettivamente in termini di cambiamenti economici. Poi dopo qua ci possono essere visioni differenti ma comunque parliamo di mesi fino ad anni di lag. Quindi probabilmente l'idea è che se i tassi rimanessero a questo livello sono abbastanza restrittivi da portare poi questa domanda a pareggiarsi con l'offerta. È interessante poi anche la proiezione sul 2026 perché era il primo Summary of Economic Projections che abbiamo con una proiezione appunto del 2026 e si vede un 2026 tra virgolette normale. PCI core PCI al 2% che sarebbe l'obiettivo della Fed disoccupazione al 4% che è il livello probabilmente ottimale crescita del PIL all'1,8% che è la crescita attesa sul lungo periodo. Quindi diciamo che la Fed in qualche modo con questo numero prevede che le cose vadano completamente a posto dal 2026. Ovviamente più si va avanti più ci sarà una disparità di vedute lo vedete nel dot plot magari se volete andare a dare un'occhiata vi lascio il link all'interno della descrizione del video perché semplicemente più andiamo avanti nel tempo e più la cosa si può evolvere in vari modi. Quindi da questo punto di vista è importante continuare a guardare quello che succederà lato inflazione, lato economico la Fed continua a guardare quanto succede e in qualche modo ha proiettato un nuovo rialzo di tasse di interesse nel corso dei prossimi mesi fermo restando però la possibilità che non ci sia nessun taglio quindi sicuramente saranno importanti le letture da un punto di vista economico di inflazione che avremo nel corso dei prossimi mesi. Fammi sapere la tua nei commenti lascia un like al video per supportarmi se sei nuovo sul canale puoi iscriverti cliccando sulla campanellina per non perderti i prossimi video e ti consiglio di andare a vedere quest'altro video alla destra in cui parlo di come investire tra i 20 e i 30 anni. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!